Mi sono appena scordata che manca il microfono, borco! Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e direi buon anno a tutti perché questo sarà il primo video, ma anche se lo sto registrando prima dell'anno, però insomma non è questo il punto primo video di quest'anno che vorrei partire nel migliore dei modi ovviamente quindi parlerò di tutte le cose che mi sono piaciute di più per me è sempre un po' difficile perché a me piace invece fare un po' il contrario, no? mi stimola molto di più parlare delle cose che invece non mi sono piaciute però invece sono super entusiasta di parlarvi di questa sbrodolata di titoli che sono tra i miei preferiti del 2018 e che se non li avete ancora letti io ve li consiglio tantissimo in italiano sono molto pochi, ve lo premetto, ma come sempre perché tanto purtroppo mettetevela via, io leggo meno di un libro al mese in italiano quindi purtroppo, soprattutto per i nuovi iscritti che spesso mi ritrovo sotto nei video che mi chiedono ma sono in italiano, in inglese, ma è uscito o non è uscito io difficilmente leggo in italiano per una questione di pubblicazioni detto ciò però, visto che ho veramente tante cose, volevo fare la top 10, ma la top 10 too long insomma bla 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 bla, quindi alla fine ho detto vabbè vi parlo di tutte le cose che mi sono piaciute in ordine sparso, quindi poi non sarà una classifica a parte proprio il libro dell'anno che per me rimane quello che vi avevo annunciato a gennaio, ma poi non facciamo spoiler, ne parliamo dopo quindi direi di iniziare, andrò in ordine rispetto a come sono nella mia pila di libri come li ho cercati in casa e quindi spero che tutti i libri che vi segnalerò in questo video se non li avete già segnati saranno titoli che vi segnerete dopo questo video e che terrete d'occhio insomma allora parto veramente dal fondo, da uno di quei libri che vi ho recensito anche abbastanza di recente e di un'autrice che non sarà solo con questo libro in questo video ovvero sempre Kirsten White con The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein uscita in Italia come la buia e discesa di Elizabeth Frankenstein io puntavo questo titolo moltissimo perché a me Kirsten piace tantissimo come scrittrice proprio è bravissima secondo me, ha un talento proprio incredibile e scrive in un modo che a me piace tantissimo, per me è molto evocativo ma soprattutto combina un'eleganza ma anche un costruirsi molto lento della trama che è esattamente il modo in cui io amo leggere questo non è un criterio oggettivo, è semplicemente che incontra moltissimi miei gusti e la trovo veramente molto brava nel far vedere le cose ed essere molto fedele ai suoi personaggi rispetto a tantissimi altri e insomma The Dark Descent e vi lascio qua sopra ma adesso lo metterò veramente, mi devo solo ricordare a Tiffany del futuro metti qua sopra il link e anche giù nell'infobox la mia recensione completa alla buia discesa di Elizabeth Frankenstein stiamo parlando di una sorta di retelling di Frankenstein ma non proprio perché in questo caso noi non seguiamo Victor ma seguiamo Elizabeth che è la moglie di Frankenstein o diventerà la moglie di Frankenstein e seguiamo un po' la sua spirale discendente verso i peggiori forse sentimenti, i peggiori istinti, le peggiori situazioni che l'hanno portata a quel punto dopo una vita vissuta a nascondere chi è veramente una vita vissuta per riuscire a sopravvivere soprattutto per me è stato un libro che non vi spiegherò troppissimo perché ne ho già parlato lungamente nella recensione molto molto intenso, davvero molto interessante ed inusuale l'ho trovato estremamente originale anche nel descrivere un personaggio che non ti può piacere perché Elizabeth è tutto tranne che piacevole eppure secondo me più si avanza verso la fine più sentiamo una vicinanza estrema con la protagonista e questo mi è piaciuto moltissimo trovo che sia veramente un buon stand alone scritto bene, che non lascia troppe cose in sospeso e che ci dà una visione molto originale, molto unica e quindi io ve lo consiglio tantissimo vado avanti con un altro titolo che nomino sempre perché quest'anno per me è stato il saggio migliore che io abbia letto ma non nel senso che sia stato il saggio forse più rivoluzionario ma sicuramente è quello dove io sono ritornata più spesso col pensiero ci sono ritornata tantissimo ragionando su diverse tematiche su diverse questioni anche dell'attualità e quindi vi sto per parlare di nuovo di Why I'm No Longer Talking to White People About Race di Rennie Edo Lodge che per me è stato davvero una scoperta è uscito l'anno scorso ma io sono riuscita a recuperarlo solo quest'anno è un titolo che davvero per me ha significato moltissimo nel 2018 e che mi porterò dietro per quello che affronta la Edo Lodge praticamente in questo saggio spiega l'autrice mossa proprio da un sentimento anche molto di stanchezza anche molto di esasperazione come a un certo punto si è arrivato a dire che io non cercherò mai più di spiegare perché, che cos'è la discriminazione perché non mi potete dire voi bianchi che non la subite che cos'è o cosa non è razzismo perché solo io me ne posso rendere pienamente conto e da questa sorta di esternazione molto esasperata Rennie Edo Lodge invece dice che per gli anni successivi non ha fatto altro che parlare di questioni di etnia e di razza con tutte le persone bianche ma non solo che l'hanno circondata perché ha affrontato davvero moltissimi punti che fanno parte del quotidiano trovo davvero molto brillante questo saggio che proprio parte da un punto quasi di rabbia anche quasi di stanchezza, di esasperazione totale e che invece ha dato spunto per tantissime questioni che invece secondo me sono necessarie da affrontare soprattutto per questo momento storico io davvero credo che sia una di quelle cose anche molto leggere, molto scorrevoli da leggere non pensiate che sia una cosa molto pesante però devo dire che lancia veramente delle stoccate abbastanza rilevanti per quello che significa mettere in discussione anche quello che siamo noi e le nostre identità io ve lo consiglio moltissimo e anzi se non l'avete fatto e se vi interessa comunque esplorare in maniera anche a 360 gradi la questione etnica la discriminazione e il razzismo questo è un ottimo libro perché dà degli spunti anche un po' imprevedibili che quindi non sono le cose scontate che noi pensiamo già di ormai aver assorbito e conosciuto poi non poteva mancare in questo wrap up dell'anno delle migliori letture insomma abbiamo nella top 10 dei Miss Fiction Awards che poi non è una top 10 è una top 12 in realtà vabbè ma comunque non è questo il punto come fermare il tempo how to stop time di Pike io devo dire che forse sono una di quelle che è rimasta davvero più colpita da questo libro per due motivi principali il primo è sicuramente il ragionamento che fa il protagonista lungo tutto il corso del libro sul significato del tempo sul senso del tempo eccetera ma soprattutto quello che a me personalmente ha colpito di più perché mi ci ritrovo molto vista un po' la mia condizione io soffro d'ansia non è una cosa che nascondo e credo che il modo in cui Matt Pike sia in questo libro ma anche nella vita reale perché lo seguo sui social e soprattutto in altri volumi che voglio recuperare assolutamente però soprattutto quella di cercare continuamente delle motivazioni per continuare a stare al mondo e so che detto così è molto lapidare e anche molto estremo però devo dire che quando si soffre di ansia di depressione eccetera è una cosa che ci si chiede spessissimo quanto valga la pena se valga la pena e so che è un discorso davvero che sto facendo in una maniera quasi superficiale però devo dire che davvero ci si ritrova spesso in questi pensieri a rimuginare su queste cose e credo che questo libro come tante altre cose insegni soprattutto che ci sarà sempre una motivazione per tenerti coi piedi per terra e non sdraiato con un tagliandino sul pollice quindi io sinceramente e personalmente è un libro che consiglio moltissimo perché parla soprattutto a tutte quelle persone che almeno una volta al giorno si chiedono quanto valga la pena fare qualcosa quanto valga la pena combattere e non che questo dia la soluzione assolutamente la soluzione la dovete sempre trovare comunque voi stessi però devo dire che questo invece dà degli ottimi spunti grazie a un parallelismo con la storia del protagonista a me è piaciuto davvero tanto quindi vi consiglio assolutamente questo libro e sicuramente ci sono dei difetti ma che secondo me sono ininfluenti su quello che alla fine è il risultato finale quindi io ve lo consiglio beh e non poteva mancare ovviamente di nuovo la mia amatissima Kirsten perché in questo caso vi voglio parlare di Bright We Burn ma allora anche di questo libro vi ho parlato a lungo perché per me è stato sia un enorme un enorme gioia ma anche un enorme delusione però insomma io sono legatissima alla saga di And I Darken ovvero Io Sono Buio di Kirsten penso di non aver mai provato così tanto rispetto e stima e amore e non lo so fangirlismo per un personaggio io non sono una fangirl non lo sono mai stata ma devo dire che l'Ada ha proprio schiantato tutte le mie certezze ecco perché lo trovo un personaggio costruito in una maniera eccellente trovo che sia sempre fedele a se stessa che non riproponga dei modelli stereotipati ma che cerchi sempre di rimanere attaccata a quelle che sono le sue caratteristiche dall'inizio alla fine alla fine se escludiamo gli ultimi 4 capitoli ecco che io fingo di non avere letto addirittura li vorrei tagliare dal libro perché non ne possono esistere perché questo finale era finale fino a quel punto poi dopo c'è la fine ma non ci interessa fingete che non esista perché non è giusto che la storia di Lada finisca cioè che finisca qua deve finire qua ecco detto ciò per me è stato un ottimo finale è stato veramente molto intenso è come un finale dovrebbe essere non è secondo me all'altezza ovviamente di Now I Rise perché Now I Rise tocca dei picchi altissimi di Pathos però davvero io in questo libro ad esempio ho imparato ancora di più a volere molto bene a Radu e questo per me è stato difficile non è così scontato so che invece Radu è di solito il personaggio preferito di tutti quelli che non amano Lada credo che sia un ottimo finale questa serie secondo me è una serie molto interessante molto originale e assolutamente valida quindi se volete leggere qualcosa di scritto veramente bene che proceda passo molto lento ma non lento statico lento perché deve costruire sempre di più una certa tensione deve costruire sempre di più la storia di un personaggio come quello di Lada io sono proprio schiava di questa serie penso di avervela consigliata almeno in ogni due video più o meno ok vabbè comunque felicissima di questo finale poi visto che eravamo a Lada come non passare all'altra mia BFF ovvero mia cover di God's Brave allora questo libro è come per me Evernight questo libro non è stato un libro a cui io ho dato 5 stelline perché secondo me risente di due problemi fondamentali che non ha risolto Jay Kristoff e questo mi fa un po' arrabbiare da un lato perché ha un potenziale incredibile ma incredibile ecco ed è questo che un po' mi fa rabbia perché quando vedo queste cose vorrei dire porca miseria ti mancava così poco eppure comunque God's Grave ritorna sicuramente tra i miei preferiti perché trovo che l'andamento che ha questo libro sia stranissimo confuso però a un certo punto quando ti torna tutto ti torna tutto inizia a tornarti tutto esplode e diventa veramente bellissimo è uno dei libri che più mi ha appassionato leggere nonostante la fatica che io abbia fatta con lo stile di Jay perché è veramente uno stile che ti fa dire tutte le volte ma l'ha scritto veramente ma era necessario però comunque per me risulta molto molto originale brillante mia cioè è il mio alter ego ok quindi io non lo so ed è anche stato molto involontario però insomma io le voglio un bene incredibile spero che uccida tutti perché a me non me ne frega niente di lasciare nessuno al mondo e quindi io ve la consiglio tantissimo questa saga finalmente quest'anno uscirà Dark Dawn ne parleremo più avanti insomma leggete ovviamente God's Grave e leggete Nevernight se ne avete la possibilità ricordatevi solo che è ostico come poche cose che leggerete tenetelo a presente ma comunque è una serie che merita tantissima molto molto interessante e originale deve risolvere quelle due cose però a mio parere che sono lo stile perché veramente il ritmo è estenuante proprio arrivi al punto finché non capisci che vuoi buttare il libro contro il muro e l'altro problema secondo me è la caratterizzazione di tutti i personaggi che non siano mia perché davvero è difficile inquadrarli o almeno sono tutti molto referenziali a mia sono tutti molto funzionali a mia e più di tanto non li vai a conoscere e anzi è una cosa che a me non ha perfettamente preso fino al 100% detto ciò però ripeto che secondo me è una serie che vale tantissimo che io consiglio sempre quindi fatelo allora mi tengo questo ora perché dopo mi sono resa conto che ho una serie di libri da fazzoletto quindi ok parto da ovviamente fidanzati dell'inverno per me è uno dei fantasy più originali che siano usciti negli ultimi anni ok devo dire che questo libro per quanto abbia dei difetti che per me sono veramente difficili da superare rimane comunque davvero un titolo estremamente originale che batte ogni ogni altro titolo letto negli ultimi anni devo dire perché ha degli elementi soprattutto nella trama è un modo di scrittura che è davvero molto molto unico davvero singolare e qualcosa che non ho ritrovato mai ecco ha dei problemi che piano piano secondo me andranno a risolversi o forse non si risolveranno mai ma credo che non sia quello il punto inizio a capirlo ora che ho appena finito il secondo del quale vi parlerò poi a brevissimo comunque in ogni caso per me fidanzati dell'inverno è uno di quei titoli che vanno letti assolutamente per almeno leggere qualcosa di unico e vedere anche una prospettiva del tutto inusuale mi ha appassionato molto questa storia e devo dire che nonostante i miei problemi sia con la protagonista che con le relazioni che con alcuni elementi soprattutto legati alla figura femminile e ve ne parlo moltissimo nella mia recensione che vi linkerò qua sopra Tiffany del futuro linkala qua sopra ti prego e però in ogni caso io mi sento assolutamente di consigliarla perché è qualcosa che non ritroverete spesso e merita davvero attenzione io ho tantissima fiducia nei prossimi perché già il secondo ha risolto tantissime questioni che a me non avevano convinto in questo quindi spero e penso che nei prossimi si vada sempre più verso quella direzione comunque ve ne parlerò a breve nel frattempo se non l'avete fatto leggete fidanzati dell'inverno davvero merita moltissimo poi altro libro che sicuramente non può mancare in questa classifica è uno dei libri che trovo più impattanti dal punto di vista dell'attualità letti di recente ovvero The Hate U Gives di Angie Thomas trovo che sia qualcosa di estremamente incredibile per quello che ha fatto Angie Thomas ha portato una storia molto americana molto statunitense che per noi sembra molto distante perché da noi succede molto di rado qualcosa che per loro è all'ordine del giorno eppure ha rappresentato sia la comunità black che quello che è davvero la loro quotidianità in tantissimi casi soprattutto in quelli dove non c'è benessere c'è soprattutto anche microcriminalità dovuta proprio alla sopravvivenza ecco e credo che la storia soprattutto di questo libro questo volume però non rappresenti solo quello sia solo uno spunto per far vedere come una realtà quotidiana di un piccolo paese e la scoperta anche di una potenza un qualcosa di molto importante e da salvaguardare dentro di noi che è quello che sperimenta Star cioè la protagonista in realtà sia applicabile a qualcosa che invece può succedere a noi e lei assiste a un episodio tragico tutti cercano di metterlo a tacere tutti cercano di dirle che lei sbaglia nel volere trovare la verità e invece ci sono tantissime voci che la sorreggono tantissime voci che insistono insieme a lei tantissime voci che vogliono arrivare alla verità perché è l'unica cosa che conta che conterà sempre anche quando ti diranno che è sbagliato quello che stai dicendo ma la verità non è mai sbagliata è una cosa che io credo fortemente la storia di Star mi ha toccata moltissimo è molto commovente in alcuni tratti ma è anche quasi una cartolina questo libro da quel piccolo universo quel piccolo mondo dove vive Star la sua quotidianità il suo quartiere i suoi giri i suoi negozi le persone ognuno come se fosse una piccola macchietta dentro un grande quadro che occupa un piccolo spazio e ha una parte nella storia e questo per me è stato molto interessante anche dal punto di vista della scrittura non solo come tematiche generali di questo libro che comunque io consiglio perché se c'è qualcosa di originale limpido puro veritiero e davvero davvero interessante quello The Hate U Give e vi consiglio assolutamente di leggerlo ve l'ho consigliato tantissimo quest'anno e spero di continuare a farlo perché se non l'avete fatto dategli una possibilità anche l'audiobook la seconda parte di questo libro l'ho ascoltato in audiobook è estremamente piacevole se parlate inglese ovviamente in italiano non so neanche se sia uscito l'audiobook vabbè ma non è importante ma dategli dategli una possibilità ok altro libro che menzionerò e basta perché ne ho parlato a lungo ed è un libro che mi crea anche una certa difficoltà a ripercorrere eccetera altro libro che sento davvero che quest'anno mi ha aperto molto gli occhi per alcune cose tante cose evidentemente non solo letterarie è le nebbie di Avalon io è un titolo che ho affrontato in una recensione che vi linko qua c'è anche una premessa forse delle più lunghe che ci saranno mai sul mio canale perché provo una certa difficoltà ed è sicuramente uno di quei titoli che mi ha insegnato che non c'è una risposta a quelle che sono le nostre i nostri dubbi sempre ci sono soprattutto aree di limbo nella nostra mente al quale forse non abbiamo tutte le risposte forse non è necessario neanche avere delle risposte detto ciò invece le nebbie di Avalon per me è un libro veramente incredibile è uno di quei fantasy rivisitazioni anche del ciclo arturiano che dà una prospettiva così così rivoluzionaria come poche altre quindi insomma io non ne parlerò ulteriormente vi lascio la mia recensione che Tiffany del futuro metterà qui e io non so se consigliarvelo non so se non consigliarvelo guardate il video se siete curiosi però davvero per me è stata una lettura fondamentale quest'anno altro libro che non ho in edizione ancora cartacea ma ho solo letto ma che davvero ha sconvolto quest'anno è The Poet X anche qui la Tiffany del futuro vi metterà madonna quanto odierete questa frase vabbè vi metterò qua sopra il link alla recensione in ogni caso Poet X è la storia di Jomara che è una ragazza di origini latine che vive in un quartiere dove ci sono mescolanze tra etnie black ed etnia latina è soprattutto una storia di crescita scritta in versi quindi seguiamo tramite questo stile poetico tramite questo stile molto lirico il percorso che fa Jomara in una famiglia quasi ortodossa dal punto di vista cattolico estremamente estremamente religiosa che la opprime non le dà spazio ha mille difficoltà in casa mille problematiche e affronta anche il suo crescere una fase molto delicata della sua vita dove si sente smarrita si sente persa si sente come se non avesse sempre tutte le risposte e secondo me è un libro di un'onestà talmente brutale in alcune sensazioni e talmente quasi come se toccasse la carne viva sotto una ferita in alcuni passaggi che per me è stato davvero una lettura che mi ha molto commossa mi ha profondamente messa in una posizione di empatia con la protagonista come in pochissimi altri casi e trovo che sia qualcosa di bellissimo e originale Elisabeth Attevedo riesce a tenerti incollato alla pagina anche se tu non ami le poesie e anche se tu non ami leggere in versi perché è talmente brutale in alcuni passaggi scopre talmente tanto alcuni nervi che è impossibile rimanere indifferenti ecco si affrontano tantissime cose che hanno soprattutto a che fare con cosa vuol dire l'adolescenza cosa vuol dire crescere cosa vuol dire la famiglia cosa vuol dire se stessi il rapporto con se stessi con il prossimo insomma io non so più come dirvi di leggere questo libro perché trovo Elisabeth Attevedo una delle autrici più interessanti intuitive originali che ci siano adesso sto per leggere anche il suo prossimo non vedo l'ora e quindi insomma anche The Poetics super 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 consigliato come sempre ok ora arriviamo agli ultimi tre che saranno davvero difficilissimi per me da affrontare perché è un colpo al cuore dopo l'altro ma togliamoci una spina dopo l'altra il primo è Shadow Song di S.J. Jones ovvero il seguito di Winter Song so che è un libro che invece non è stato assolutamente capito che in tanti hanno bollato come noioso che hanno bollato come ma non c'è il Goblin King ma who the fuck is the Goblin King quando hai la storia di Liesel io penso che questo libro soprattutto per chi come me soffre di problematiche legate alla salute mentale eccetera eccetera sia qualcosa di così empatico e così comprensivo e nel quale è così facile riflettersi per tantissimi momenti che mi viene ancora ancora adesso il magone mentre ne parlo perché è un libro che è profondamente umano è un libro che tocca alcuni punti di quei momenti dove ti senti così incomprese così perso e lasciato alla tua testa e non sai più cos'è vero e cosa non lo è non lo so questo è un libro bellissimo scritto meravigliosamente con un'intensità incredibile capisco non c'è il Goblin King ma non ce ne frega anche un cazzo del Goblin King quando capiamo che siamo nella testa di Liesel e che nella testa di Liesel ci siamo noi con tutto quello che non capiamo tutto quello che ci è successo è un libro che io ho sottolineato tantissimo è scritto veramente in maniera magnifica secondo me S.J. Jones è riuscita a raggiungere dei picchi incredibili incredibili quindi se vi piace questo tipo di narrazione perché io capisco che non sia per tutti che chi cerca la storia a tutti i costi l'avventura a tutti i costi qua la vedrà in una versione molto distorta e forse non l'accoglierà a pieno eppure secondo me è uno dei libri più belli scritti quest'anno una delle uscite più originali interessanti inusuali senza ricorrere a stereotipi mai perché boh affrontiamo la crisi di un personaggio affrontiamo la sua spirale discendente e la sua confusione totale e per me è stato bellissimo io davvero sono molto legata a questa serie a questa duologia che trovo brillante trovo super interessante e trovo estremamente originale quindi ragazzi io davvero non so come dirvi di leggere questo libro vi lascio anche qua al wrap up dove ne ho parlato perché è stato un libro che per me ha risultato anche difficile da discutere e non posso immaginare come parlerò degli altri due dopo avervi parlato di Shadow Song sarà difficilissimo vabbè e a proposito di libri sui quali piangere sui quali arrabbiarsi tantissimo e con i quali proprio sentire qualcosa di molto intenso come non citarvi Nowhere Girls come vedete è un libro che non mi è piaciuto per nulla è uno di quelli dove ho veramente segnato più cose più passaggi più questioni perché trovo che Nowhere Girls sia uno di quei libri che ti fa così arrabbiare ti prende così tanto nelle viscere come se avesse degli artigli e ti tira qualcosa che ti smuove non è possibile che questo libro lasci indifferente a nessuno è la storia di un gruppo di ragazze che dopo aver conosciuto una storia davvero terribile successa ad una loro amica decide di reagire decide che è arrivato il momento di dire basta e anche trovare un modo nel quale provare a proporre un modello diverso provare a proporre qualcosa che cambierà le cose e lo trovano dentro loro stesse soprattutto io davvero trovo che questo libro sia illuminante ma non illuminante perché è qualcosa di estremamente originale o che dica cose estremamente originali perché probabilmente mettere giù queste cose in maniera molto più diciamo seria e schematica sarebbe stato più semplice probabilmente ma trovo che sia un libro che alla fine ti dia una di quelle scintille nel tuo quotidiano e ti faccia capire come c'è voglia c'è necessità di smuovere le cose di cambiare le cose ci sia necessità di prendere in mano la propria vita e la propria situazione cercare di migliorarla e credo che soprattutto la speranza sia quello che rimana alla fine di questo libro almeno per me è stato così e l'ho trovato davvero incredibile l'ho trovato qualcosa che mi ha spiazzata qualcosa che mi ha veramente emozionata qualcosa che mi ha fatto arrabbiare e incazzare come pochissimi altri libri di solito i libri che mi fanno arrabbiare sono quelli brutti questo mi ha fatto arrabbiare perché ciò che succedeva era qualcosa che perché sapevo che è qualcosa che può succedere a me che può succedere a tutte le persone che ho intorno che può succedere alle mie amiche alle persone che conosco perché questo è ciò che è No Workers e credo che sia uno di quei libri che io consiglierei a chiunque perché ti rimane dentro ti sono scene che ripercorri col cervello continuamente non riesci a tornarne indietro non riesci a rimanerne indifferente ecco e per me tutti i libri che non mi lasciano mai indifferente alla fine della lettura sono libri che meritano di essere valorizzati sono libri che sicuramente lasceranno qualcosa dentro di me e No Workers lo ha fatto quindi io di nuovo vi lascio anche qua link vari su dove ne parlo leggete No Workers leggetelo perché veramente è uno di quei libri che si fa ricordare è uno di quei libri che vi rimane in testa per mesi allora non so come siamo arrivati alla fine e non so come io riuscirò a rimanere impassibile quando vi parlerò di questo libro allora sapete tutti qual è il mio libro dell'anno perché io a gennaio facendo la recensione di questo libro ho detto questo è il mio libro dell'anno ho cercato in tutti i modi di leggere cose meravigliose che mi avrebbero cambiato l'opinione ma no è impossible proprio impossibile nel senso che ho letto cose bellissime durante quest'anno e ve ne ho appena parlato ma trovo che ci fosse bisogno di nuovo di Madeleine Miller quest'anno e Circe che oltre ad avere la copertina più bella del mondo perché sai i booktuber fanno sempre gli appunti sulle copertine ma credo sia evidente quanto sia meravigliosa penso proprio anche di fare fatica a parlare di questo libro perché è un libro meraviglioso è un libro che è stato fortemente incompreso è un libro che credo sia difficile anche da comprendere a fondo se non lo si legge in un momento giusto in un'età giusta forse non è come la canzone di Achille la canzone di Achille penso che sia universale nel suo essere qualcosa che ti rapisce fino al profondo dell'anima Circe secondo me va letto proprio in un momento di grandissima consapevolezza della propria condizione femminile sicuramente è un libro che si capisce solo in un determinato momento a mio parere detto ciò Madeleine Miller ha concentrato la femminilità ha concentrato proprio l'essere donna l'essere femmine ciò che significa qua dentro in una maniera che per me è stato estremamente toccante soprattutto perché rivedere la storia di Circe che non conoscevamo perché lei si reinventa e reimmagina questo personaggio prendendo spunto dal mito originale ma cercando di darle una dignità e dandole voce dandole la parola dandole azione eccetera e lo fa raccontando soprattutto le difficoltà il fatto che spesso sia vittima di immobilismo spesso sia vittima del suo stesso destino che non abbia avuto neanche la forza forse fino a un certo punto di reagire soprattutto è una storia che ci insegna quanto la gentilezza sia un valore da perseguire anche quando non è la cosa che ti salverà anche quando non è il valore che ti farà risultare più brillante e migliore di altri e anzi è quello che forse ti farà soffrire di più e al di là di questo trovo che il modo in cui scrive questa storia Magdalene Miller sia profondamente vicino a proprio le corde più intime dell'essere umano e che sì in questo caso vorrei dirvi che soprattutto parla della condizione femminile dell'essere donna però penso che sia un qualcosa di universale perché non è che essere donna per forza significa che lo devono leggere solo le donne credo anzi che racconti una parte dell'umanità che va sempre comunque bene conoscere e credo che proprio la sua grandezza stia qua perché non è un libro che parla di eroi di battaglie di cose di questo tipo non ce ne frega niente in questo libro delle battaglie perché vengono estremamente ridimensionate a noi interessa sapere quello che sarà il destino di Circe come lei riuscirà affrontare l'ennesima sfida l'ennesima prova che le viene messa davanti e non lo so io ragazzo ho pianto tipo per metà libro questo libro per fortuna mi è arrivato dopo l'arc perché l'arc poverino è tutto rovinato penso che questo sia stato il più bel regalo di quest'anno meraviglioso intenso originale ci voleva madeline miller se ci mette altri 13 anni per scrivere no 17 in realtà per scrivere un libro a me va bene perché ogni volta è qualcosa che mi cambierà proprio la vita e io penso che lei lo abbia fatto con questo libro perché ti dà una comprensione così profonda di ciò che sei e probabilmente neanche te ne eri accorto e non so ragazzi questo per me è proprio il libro più bello di quest'anno sento proprio a mani basse mi sentivo continuamente come se mi si stesse per spezzare il cuore davvero penso che un libro così intenso e così emozionante sia raro sia una perla rarissima e quindi io non posso fare altro che consigliarvelo di nuovo e ora veramente andrò a buttarmi cioè in un angolo a piandere tutte le mie lacrime dopo che ne ho riparlato non riesco ancora a fare una recensione di questo libro quindi figuratevi la difficoltà di arrivare alla fine di questo video ecco allora ok detto ciò io insieme alla mia amata Circe vi dico che siamo arrivati alla fine del video perché già non riesco più a parlare comunque insomma tutti i link ai libri che vi ho citato eccetera sia i video che ad Amazon li trovate giù nell'infobox io vorrei sapere intanto se qualcuno dei libri che vi ho consigliato li avete letti e cosa ne pensate perché sono sempre molto curiosa e quali sono anche i vostri libri del 2018 almeno una top 3 ecco dai e per il resto io spero che davvero possiate prendere spunto da tutte queste cose bellissime che ci aspetti un anno con ancora letture più belle perché davvero secondo me ci sono cose meritevolissime nel panorama del 2019 non vedo l'ora di parlarvene detto ciò io vi ringrazio nuovamente per essere stati con me almeno fino alla fine anche in questo video e direi che ci vediamo al prossimo ciao